Terza corsa al Cilidiano di Aversa, premio Lucerna, miglio per anziani di categoria F, in Salchi, Gentleman, non corre il 7, Big Ben delle F, restano in 12, 6 in prima fila, 5 in seconda, 1 in terza, dallo steccato Diamante, Deca del Ronco, Belvolo, Zagor Sandi, Xispav, Bucco. Seconda fila per Astrales, Vulcano NP, Angelica, Cirogette, Ciclone Griff, terza fila per Argo del Ronco. Subito la rottura di Dixispav, Zagor Sandi, Sopravanza, Deca del Ronco e Diamante, si sistemano così nelle prime tre posizioni, 200 metri in 14,8, Zagor Sandi a ritmo sostenuto, ne può beneficiare Deca del Ronco che agisce dalla seconda posizione, cerca di risalire Vulcano NP ma il ritmo è sollecito, 29,4 il quarto iniziale, ha sbagliato anche Astrales che finisce squalificato e così Zagor Sandi inseguito da Deca del Ronco, poi Diamante in terza posizione, Vulcano NP l'unico a largo, 44,2 i 600, abbandona lo steccato Diamante anticipato da Deca del Ronco che va a rilevare in testa Zagor Sandi che sembra aver dato il meglio, guadagna posizioni di dentro Ciclone Griff ma adesso ad avanti Zagor Sandi che è fermo, un minuto e cinque decimi, gli 800, passa a condurre Deca del Ronco, chilometri in 1,16 e mezzo, Deca del Ronco va in fuga, poi Diamante e Vulcano NP, si arriva così ai tre quarti di miglio, percorsi in 1,31 e 2 con Deca del Ronco in fuga, Vulcano scende davanti a Diamante e ferma, ingresso in retta d'arrivo, facile Deca del Ronco, Deca del Ronco si distende alla grande, mentre Vulcano NP si difende dallo spunto di Ciclone Griff, 2,9,12, quarto posto per il numero 1 Diamante e questo l'arrivo probabile ed ufficioso, 2,9,12,1, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14,8 per il successo di Deca del Ronco e Giuseppe Cirillo, in gran forma il suo interprete, figlio di Julius del Ronco e Chari del Ronco, e di proprietà dello stesso Giuseppe Cirillo, allenato da Francesco Cincinnato, che ha gli effettivi in grande ordine. Grazie a tutti.